Ciao a tutti! Oggi prepareremo il frappè alla menta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, sciroppo alla menta, ghiaccio e gelato fior di latte. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il ghiaccio che abbiamo preso dal congelatore 10 minuti prima e lo facciamo dritare per 40 secondi a velocità 6. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo sciroppo di menta. Ritazioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Posizioniamo la farfalla sulle lame, aggiungiamo il gelato ed azioniamo il bimbi. per 30 secondi a velocità 3. Il frappè è pronto, serviamolo. Frappè alla menta. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.